L'echinacea è una pianta medicinale che serve per stimolare il sistema immunitario, aiuta ad evitare il raffreddore comune e serve come rimedio efficace contro i sintomi dell'influenza del nostro organismo. A differenza degli antibiotici che vengono creati per uccidere tutti i batteri, l'echinacea aiuta il nostro sistema immunitario preparandoci a lottare contro i batteri e i virus, riducendo i sintomi e il tempo di ripresa della convalescenza. L'echinacea fu il rimedio più usato contro raffreddori e influenze in gran parte del mondo fino a che non fu rimpiazzata dagli antibiotici. Nell'industria farmaceutica c'è molto interesse nei suoi confronti. In Germania questa pianta viene utilizzata molto, poiché ancora oggi rappresenta il rimedio principale per le infezioni respiratorie. I principi attivi, fondamentali dell'echinacea che aiutano il nostro sistema immunitario sono tre, antiossidanti, alcamidi e polisaccaridi. I ricercatori dicono che questa pianta aiuta a farci guarire dall'influenza circa 36 ore prima del normale. Pubblicazione della rivista scientifica The Lancet. Alcuni studi hanno dimostrato che l'echinacea ha numerosi effetti sulle cellule del sistema immunitario, poiché stimola la produzione di linfociti T e interferone. Gli interferoni sono delle proteine prodotte in maniera naturale dal sistema immunitario, come risposta ad agenti patogeni, quali virus e cellule cancerogene. I linfociti T nascono nel midollo osseo ma maturano in una ghiandola chiamata timo. La lettera T rappresenta appunto il timo. Ne esistono tre tipi. Vi descrivo per il vostro interesse i tre tipi di linfociti T. I T-helper, che aiutano gli altri linfociti a distruggere i microorganismi infettivi. I T-regolatori, che bloccano l'attività di altri linfociti, impedendo loro che distruggano il tessuto sano. Tre, i natural killer, che riconoscono ed eliminano le cellule anormali o infettate. Un altro particolare è che un vaccino si attiva per una malattia specifica, mentre l'echinacea lotta contro ogni infezione. Una vera meraviglia che la natura ci ha donato. L'echinacea allevia il dolore, riduce le infiammazioni ed ha effetti ormonali, antivirali e antiossidanti. Per questo motivo, gli erboristi di professione possono raccomandare l'echinacea per curare infezioni del tratto urinario, candidosi, infezioni, otiti, piede d'atleta, sinusite, rinite allergica, erpes genitale, malattie gengivali, così come per le felite a lenta guarigione. Altri utilizzi non relazionati a infezioni includono la sindrome da fatica cronica, il reumatismo, le emicranee, l'indigestione, il dolore, le nausee, i morsi di serpente e il disturbo da deficit di attenzione o iperattività. Il suo uso esterno serve per la cura di foruncoli, ferite cutanee, ulcere, ustioni, eczemi, psoriasi, danni da raggio V, herpes simplex, punture d'ape ed emorroidi. In caso di allergia a crisantemi, margherite, ambrosia o calendula, anche l'echinacea potrebbe causare reazioni allergiche. Non consumare echinacea durante la gravidanza e l'allattamento. In caso di disturbi del sistema immunitario, come ad esempio sclerosi, artrite, penfigo o lupus, l'echinacea potrebbe avere un effetto negativo, poiché potrebbe causare il peggioramento di tali malattie. Ed è per questo che il suo consumo andrebbe evitato. Il suo utilizzo è sconsigliato anche a persone con allergie ereditarie atopiche. Se applicata sulla pelle, può causare prurito, arrossamento o eruzioni cutanee. Non mischiarla con la caffeina, poiché potrebbe aumentare i rischi di effetti secondari. L'echinacea potrebbe ridurre la rapidità con cui il fegato scompone alcuni medicinali, per cui in caso di assunzione di qualche medicinale, il consumo di quest'erba è sconsigliato. Effetti secondari Febbre, vomito, bocca amara, dolori di stomaco, diarrea, mal di testa, nausea, insonnia, dolori muscolari e articolari, secchezza delle fauci. L'echinacea può essere consumata sotto forma di tè, ma il modo migliore per assumerla in sicurezza è in capsule o compresse e prenderla secondo quanto riportato sul foglietto illustrativo. Il suo utilizzo deve essere fatto sotto supervisione medica. Questo è tutto ragazzi, mi piace questa pianta, vi lascio un link sulle cause del gonfiore addominale, l'origine dell'infiammazione e gli alimenti da cui trarre giovamento per evitare la distensione addominale. Se il video ed i suoi contenuti vi sono piaciuti, potete aiutarmi dandogli una valutazione. Grazie mille e al prossimo video! Grazie mille e al prossimo video!